ragazzi ragazzi buonasera oggi vi diamo una bellissima notizia un'opportunità incredibile la vedete ben inquadrata la meravigliosa nonché splendida e strepitosa mv augusta brutale 910s da sballo allora ragazzi attenzione perché abbiamo un'opportunità per tutti coloro che l'hanno puntata o che comunque vogliono fare una grandissimo affare allora abbiamo una promozione di questo inizio marzo solo per pochissime settimane disponibile questa meraviglia a soli 4500 euro e vi portate a casa un gioiello mediteli da sballo questa mv augusta brutale 910 è veramente tenuta da vetrina pari al nuovo è pazzesca la vedete anche già aggiornata con l'inserzione all'interno del nostro sito ed è veramente da venire a vedere assolutamente esemplare veramente pazzesco gommato nuovo al 100 per cento poco più di 20 mila chilometri tenuta come si deve pazzesca ragazzi non spaventatevi col coronavirus e fate l'acquisto dell'anno mv augusta brutale 910 a 4500 euro da vetrina prendete al volo questa occasionissima ciao a tutti